Come ho detto all'uscita dal Quirinale l'altro giorno, noi siamo al lavoro per creare una maggioranza di governo che metta al centro le soluzioni ai problemi dei cittadini e queste soluzioni passano per un contratto di governo sul modello tedesco. Un contratto di governo che, come ho detto qualche giorno fa, può essere sottoscritto dal Movimento 5 Stelle o con la Lega o con il Partito Democratico. Noi siamo pronti ma vediamo anche che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, delle evoluzioni a cui guardiamo. E registro come un passo in avanti la dichiarazione del segretario Martina di stamattina, il segretario del PD, come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17 o con il 37, in ogni caso non fa 51% e quindi comunque non crei una maggioranza. Io aspetto e guardo a queste evoluzioni nei due schieramenti, consapevole che l'obiettivo è dare un governo del cambiamento a questo Paese. Come ho detto in questo momento nei due schieramenti ci sono delle evoluzioni e io attendo queste evoluzioni, consapevole del fatto, come ho detto già stamattina, che l'obiettivo è creare un contratto di governo sui temi, sulle soluzioni per il Paese. Ma oggi io sono molto fiducioso per questa direzione, quella del contratto di governo. Guardi, su questo io non ho nessun tipo di notizia, io le dico soltanto e sappiamo che sia da una parte che dall'altra ci sono delle evoluzioni e le attendiamo. Grazie.